Claudia che cosa è successo nei giorni scorsi? Ecco nei giorni scorsi abbiamo avuto questo fogliettino di avviso di pagamento per la bonifica dei fiumi di sabato, quindi già in fase anche un pochino avanti perché scadeva l'uno del mese e mi sono partita subito di corsa il lunedì per andarlo a pagare giustamente, e quindi sono andata alla posta, eravamo già in due o tre comunque a fare la fila, ho visto con lo stesso foglietto, quando arriva il nostro turno ci dicono che in posta non si poteva pagare e lì comunque c'era scritto, allora vado anche a leggere perché quando uno parte di corsa un pochettino, effettivamente c'era scritto che in posta non si pagava, c'era scritto che si può pagare in banca oppure anche nelle ricevitorie, quindi dove c'è la possibilità di pagare telematicamente, o nelle proprie banche, quindi banche, allora vado subito in un tabacchi e chiedo di poter pagare questa qua e mi viene risposto che solo con il banco ma potevano far pagare, io quella mattina avevo solo contanti e quindi va bene, torno indietro, allora mi accingo di andare nella mia banca, vado nella mia banca e mi dicono no guarda non lo possiamo pagare, dopo aver fatto comunque sempre la fila perché ovviamente c'è la fila ovunque, non lo possiamo pagare perché non abbiamo il collegamento per poterlo pagare per web insomma, e quindi niente sono tornata a casa, allora il giorno dopo mi appresto andare via con il banco ma per andare in un'altra ricevitoria per pagarlo col banco ma vado a Fano e mi dicono no guardi non possiamo farlo perché non ci parte il collegamento e ci ritorna indietro, quindi a tutt'oggi ancora non sono riuscita a pagare questa bollettina e mi trovo un po' in difficoltà, poi mi sono informata stamattina con qualcun altro e mi hanno detto che si può pagare anche nei mini market oppure al credito valtellinese, oggi proverà in questi luoghi, speriamo di risolvere ecco questo problema perché per pagare una bolletta tre giorni mi sembra un po' eccessivo. Nella bolletta viene fatto riferimento anche a un sito internet, ecco lei lo ha visitato? Sì ho provato per vedere anche perché dicevano che c'era un elenco di tutte le strutture dove si poteva andare ma a parte apriva due o tre pagine consecutive che non arrivavi al dunque e all'ultimo sono riuscita ad aprire una pagina ma dove c'è un foglio Excel con tutte delle cose che non è possibile insomma cedere a un elenco definito di dove poter andare, poi volevo anche dire io poi fortunatamente ho la macchina insomma mi muovo ma la mamma del mio compagno che ha 82 anni e non si muove come fa per poter pagare una cosa del genere? Dove va questa gente? Quindi ci sarà anche tanta altra gente di una certa età.